Ci avviciniamo all'appuntamento di Bisignano delle strade, del tour del Rosato 2024 e un appuntamento, un evento che l'assessore Francesco Chiaravallo ha voluto fortemente nella sua Bisignano. Sì, buonasera, è voluto fortemente e sostenuto in modo veramente forte dal sottoscritto e soprattutto dall'intera città di Bisignano. Un evento importante, un evento che ci mette al centro anche a noi del Mediterraneo. In questa favolosa cornice che è il tour delle strade del Rosato. La location non è stata scelta a caso. Siamo nella Liuteria, vicino al Duomo di Bisignano. Un posto che è stato riportato a vita poco tempo fa grazie a un finanziamento. Quindi è sicuramente una posizione di prestigio, una location di prestigio che è stata rivalutata e appunto con quest'altro evento, con quest'altra manifestazione di grande portata avrà una grande luce e una grande importanza. Sì, dici bene, è una struttura come potete vedere fantastica, riportata alla luce dopo un bel po' di anni, dopo qualche decennio. Ci tengo a ringraziare i ragazzi della scuola di Liuteria che ci hanno dato massima disponibilità e ospitalità soprattutto in questo luogo che per noi è un marcatore identitario, come più volte detto, della nostra città e del nostro territorio. Il cartellone della giornata di venerdì 12 luglio qui alla Liuteria a Bisignano comprende non solo la manifestazione legata alla strada del Rosato ma anche tanti altri eventi dal punto di vista musicale, dal punto di vista culturale. Insomma è una giornata abbastanza ricca. Sì, allora partiremo la mattina come da cartellone con una degustazione presso l'azienda Vitivinicola Le Conche. Ultimamente è premiato il Rosato Antonè con la medaglia d'argento al Gran Concur de Bruxelles. E poi nel pomeriggio, tardo pomeriggio, ci sposteremo in questa location dove dalle 19 inizieranno una serie di eventi tra cui curati dai maestri Liutai Andrea Pondedoro e la maestra Rosalba De Bonis della stirpe della famiglia De Bonis è una delle più antiche famiglie di Liutai in Calabria e anche nel sud Italia. Loro hanno la liuteria, la bottega ubicata nell'antico quartiere ebraico chiamato Giudecca e per questa volta saranno con noi a deliziarci con la costruzione dello strumento quindi come nasce lo strumento dal legno fino al suono. E poi la sera continueremo con la degustazione dove parteciperanno mi sembra 30 etichette di vini di tutto il Mediterraneo e di tutte le regioni del sud Italia tra cui la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e l'Abruzzo. E dopodiché la sera ci sarà un concerto di musica classica che noi ospiteremo sulle gradinate del Duomo all'esterno dell'Androne dove siamo ora della scuola di Liuteria. Quindi è un evento che può abbracciare davvero tutti quindi consigliamo di recarsi qui a Bisignano proprio nella serata a partire anzi dal tardo pomeriggio come diceva giustamente lei. Sì dal tardo pomeriggio perché capiamo che la mattina è un pochino più problematico in quanto è un giorno lavorativo però la sera, il venerdì sera diciamo che tutti si rilassano e si preparano al weekend di sabato e di domenica. Intrattenimento garantito, quindi appuntamento a venerdì. Grazie, grazie a voi e vi aspetto tutti venerdì 12 dalle 19 in poi presso la scuola di Liuteria al Duomo di Bisignano. Con Tommaso Caporale, giornalista e sommelier, autore di Bollisino 2024 siamo nel bel mezzo di questo percorso delle strade del Rosato 2024 quale primo resoconto possiamo fare? Un tour ormai iniziato da maggio che ha visto location importanti sia in Abruzzo, in Puglia e anche in Calabria non potevamo che utilizzare questa location della scuola di Liuteria a Bisignano per esaltare ancora di più quello che è l'approccio alle bollicine alle bollicine rosè in questo frangente visto il progetto delle strade del Rosato bollicine rosè che saranno abbinate alla pizza quindi pizza e bollicine per questo connubio che porta l'eccellenza italiana sia della gastronomia sia del vino all'ennesima potenza un'esaltazione che viene ancora di più accentuata dall'elemento musica, dall'elemento suono tu sai benissimo che il mio progetto sulle bollicine incontra la musica perché l'ascolto dello scoppiettare di queste bollicine ci fa percepire tutte le caratteristiche organolettiche dei vini e in questo contesto noi vogliamo esaltare sia la mano dell'uomo nel fare gli strumenti musicali come il violino, la chitarra, gli strumenti a corde sia quello che è il lavoro del vignaiolo che nel costruire, nell'implementare un'etichetta di bollicina vuole emozionare il consumatore e quindi l'approccio sonoro è un approccio che ci lega a questo contesto Visto che domani sarà premiato la bollicina rosata diciamo più pregiata, quella ritenuta più valida dal vostro giudizio e dalle vostre competenze soprattutto mi preme però contestualizzare il discorso vale a dire la bollicina con la Calabria che rapporto ha? Sia nel mio progetto sia a livello nazionale si sta avvertendo una considerazione particolare verso le bollicine ottenute dai vitigni autoctoni e soprattutto quelli del meridione d'Italia noi porteremo qui bollicine e vini rosati dell'Abruzzo, della Calabria, della Campania della Puglia e della Basilicata questa attenzione verso le bollicine significa un aumento della qualità del vino spumante anche in questi territori Sfattiamo questo falso mito che il vino spumante e la bollicina appartiene solo al centro nord? Assolutamente è chiaro che le aree spumantistiche più vocate d'Italia sono quelle del Veneto, del Piemonte, della Lombardia quindi è normale considerare l'arte spumantistica quella del nord Italia però oggi più che mai si sta avvertendo questo trend di riconoscimento della qualità della bollicina anche con i vitigni del Mediterraneo ed è questo un segnale importante che vogliamo lanciare anche nel mio progetto che ha valutato proprio dalle frequenze sonore di queste bollicine una qualità intrinseca che sfata i miti diciamo più conosciuti Ospite d'eccezione per le strade del Tour del Rosato 2024 Luciano Sorbillo Maestro Luciano Sorbillo ma lui prima ha detto non mi chiamate però sempre maestro No, assolutamente non sono un maestro sono uno che prova a portare l'arte della scuola dei pizzaioli napoletani in giro per il mondo Però è un rapporto con la Calabria abbastanza stretto perché non è la prima volta ed è un viaggio che fai abitualmente Luciano Sorbillo No, io a Bisignano lo dico ma lo dico pubblicamente l'ho dichiarato anche ultimamente al Tutto Food da Milano al Fancy Food di New York io mi sento calabrese quando sono a Bisignano mi sento bisignanese perché le origini della nostra famiglia partono da qui e poi questo legame che c'è con Napoli con l'arte, con la cultura con la storia, la musica per me è veramente emozionante raccontarvi quello che ho visto oggi qui con i miei occhi è bellissimo pensare che ci sono dei giovani che investano il loro tempo la loro passione nella realizzazione di uno strumento musicale Però se volessimo adesso noi invogliare la gente a venire e a partecipare a questo evento a Bisignano di venerdì 12 luglio dove e come sarà protagonista anche Luciano Sorbillo? Io preparerò qualche pizza fritta napoletana ma perché la pizza fritta? Perché è la prima pizza che è stata fatta nei vicoli di Napoli quindi proverò ad allietare i vostri palati ma i vostri occhi e le vostre orecchie nel momento in cui arriveranno solcheranno le porte di questo luogo incantevole dove nasce il suono e io dico sempre se la natura ci ha dotato di una bocca e due orecchie è probabilmente perché dobbiamo ascoltare qualcosina in più e dire qualcosa in meno udire la musica, i suoni della natura lo strumento musicale accompagnati poi da una bollicina simpatica che anche quella emette un suono e anche lo stesso olio quando mi metto a friggere vi faccio sentire il suono in un luogo incantevole come questo secondo me io non potrei definire un prezzo perché non c'è prezzo questa è emozione, sensorialità e anche la pizza sarà più buona perché è accompagnata dei suoni con un calice di rosato perché abitualmente si ritiene che forse l'abbinamento pizza-vino sia un po' desueto in realtà ci può essere un collegamento legame tra questi due è ottimale io dico non mangiate pizza e bevete birra sono lontano dalle note pizza e birra ma ve lo racchiudo in pochissime parole nella Bavaria tedesca nella Bavaria di Monaco di Baviera pensate che i tedeschi mangiano la pizza e bevono il vino rosso italiano il rosato italiano il bianco italiano questo che cosa vi fa pensare è che la birra va bene ma lasciamola sul panino lasciamola su un qualcosa di molto più veloce un fast food molto più veloce abbiamo dei vini abbiamo dei prodotti che sono delle eccellenze la Calabria insieme alla Campania sono terre d'eccellenza sono quelle che oggi fanno crescere il prodotto interno lordo dell'Italia vadate bene sono le regioni del sud che in questo momento mantengono viva l'attenzione del comparto produzione agricoltura Italia abbiamo i migliori prodotti i migliori sapori le migliori eccellenze e poi consentitemelo noi del sud abbiamo una marcia in più quale migliore occasione quindi per iniziarsi e magari lo farò personalmente anche io che l'abbinamento pizza e vino finora non l'avevo mai considerato inizierò a farlo e invitiamo quindi tutti quanti voi anche venerdì magari ad approcciarsi a questa nuova esperienza parola di Luciano Sorbil ma poi bellissimo perché vedete una scuola di arti e professioni che è una cosa che secondo me grazie a loro all'amministrazione di Bisignano alla regione Calabria a chi ha creduto in questo progetto a Luca che ho avuto il piacere di conoscere oggi non c'è cosa più bella di formare i nostri giovani a realizzare un prodotto finito che nasce dal nulla il vero artigianato il valore aggiunto del mondo e la garanzia di un posto di lavoro nella vita che si può svolgere in casa propria non bisogna laurearsi per andare a lavorare negli Stati Uniti chi è bravo impara a fare la pizza il violino il mandolino la chitarra in casa sua e lascia le tradizioni e rappresenta l'evoluzione di quello che gli è stato trasferito grazie grazie a voi vi aspetto venerdì numerosi mi raccomando sarà una serata incantevole grazie grazie